Siamo ancora con Marco Guarneri, con dei suoi ospiti qui alla Maratona Marziale di Brescia. Ciao Marco, dici chi è qui con te. Abbiamo qua dei grandi ospiti del Modo Vietra Mita, del Vovina Vietra Vodau, però penso di passare la parola a loro che ci possono esporre in modo più corretto. Chi sono allora? Buongiorno a tutti, siamo del Vovina Vietra Vodau Fighting Heart di Egrate. Praticchiamo qua il Vovina Vietra Vodau da ormai 15 anni e prediligiamo la parte dei combattimenti. Agiamo ormai in tutta Italia e siamo presenti anche nella manifestazione della VTK a livello europeo e mondiale, sempre ospiti graditi del nostro maestro Marco Guarneri. Bene, allora oggi ci sono stati degli incontri, questa tappa della Maratona Marziale, come è andata? Ma è andata a livello eccezionale grazie alla grande organizzazione che ha permesso agli atleti di poter gareggiare nel miglior modo possibile e questo è fondamentale. Abbiamo trovato avversari degni di nota e siamo riusciti a prendere qualche podio, questo è comunque l'importante. Ci siamo divertiti perché facciamo parte di una grande famiglia della VTK. Allora, il vostro centro ad Agrate dove si trova? E' Agrate, Parco Aldomoro. Perfetto, allora presto verremo in palestra per Bulldog International.it a vedere una vostra lezione, a fare una video intervista, vedremo dei filmati sui vostri allenamenti che sicuramente sono molto interessanti e spettacolari. Vi ringraziamo già ad ora. Grazie a tutti voi, buona giornata. Arrivederci.